Ciao a tutti, ragazzi e ragazze, come state? Spero che tutto vada bene, se siete nuovi nel mio canale siete i benvenuti, se invece siete già iscritti, siete i bentornati in questo nuovo video dove vi andrò ad annunciare le nuove uscite dei libri da ottobre in poi, e in realtà solo del mese di ottobre, poi faremo anche quelle di novembre. Comunque, ve lo giuro, sono strafelice di fare questo video perché ci sono un sacco di libri che voglio leggere e non vedo l'ora, e perciò è bellissimo poterli condividere con voi, no, ma pensate anche dalla mia voce, e in più questa settimana mi siete stramancati, mi è mancato comunicare con voi, parlare con voi, farevi video lunghi 15 minuti dove vi racconto tutta la mia vita in pratica, e mi è veramente mancato un sacco, però come ben sapete la scuola è iniziata, Io faccio quest'anno una terza di liceo dello scienza umano, quindi è veramente molto molto tosta, e quindi non ho potuto fare video, però mi sto organizzando la prossima settimana così da non mancare e portarvi almeno tre video, quattro video a settimana. Comunque, questo è, detto questo, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, se vi va poi lasciate un bel like e commentate qua sotto se vi sono mancata, quale di queste uscite che sto per dirvi, non vedete l'ora di leggere e tutto quanto, E se vi va, venite a seguirmi anche su Insta, trattino basso, leggiamo insieme, trattino basso, qualche volta, no, in realtà quasi sempre, vi racconto tutta la mia giornata scolastica, letteralmente dalla mattina alla sera, cerco sempre di tenervi aggiornati, se mi iscrivete io rispondo a qualsiasi orario. E niente ragazzi, a parte quello, poi porto anche le recensioni e anche le collaborazioni che inizierò a portare piano piano anche qua, quindi detto questo direi di iniziare con i libri che quest'ottobre, diciamo, saranno pubblicati e vi giuro non vedo l'ora, perciò detto questo direi di far partire l'intro per iniziare con il primo libro. Allora, il libro che penso stiamo aspettando tutti quanti, ma tutti, 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 ma lettera in mente, tutti sulla faccia della terra, è Love Me, Love Me 2. E non importa se io ho già detto la storia su Wattpad 40 volte e ogni mattina mi rileggo un capitolo diverso, l'importante è che stiamo per averlo tra le nostre mani cartaceo, cioè veloce, sono strafelice perché poi, perché non lo sapesse, c'è anche Love Me, Love Me 1, quindi andate a comprarlo. E in Love Me, Love Me 2 succedono tante cose belline, bellose, e Stefania, che è la scrittrice, ha detto che qualcosa ha cambiato, no? Quindi non vedo l'ora, sono stracoriosa, perciò, cioè, veramente, sono strafelice. Poi, a parte quello, ci sono anche i gadget, infatti, molte delle ragazze del Bookstagram, che magari l'hanno già avuto, no? In anticipo, che magari hanno su quei 10.000 follower, così, che l'hanno già avuto in anticipo, hanno mostrato che anche i gadget, tutti carini, vi giuro, io non vedo l'ora, veramente. Cioè, io sono così happy che mi sto permettendo a saltare, cioè, in tutta la casa, ve lo giuro. Vabbè, comunque, quindi, dal 3 ottobre, in tutte le librerie, in formati digitali, su Amazon, dappertutto, potrete trovare Love Me, Love Me 2. E ho potuto trovarlo sia cartaceo che e-book, e mi sa che con e-book Contimated Limited, mi sembra comunque qualcosa così, fosse gratis, però non ne sono sicura, perciò non lo so. Comunque, cioè, costa, mi sembra, sui 10 euro sicuro, quindi, poi non lo so, quindi dal 3 ottobre andate tutti in libreria a comprare Love Me, Love Me, volume 2, anime elettriche. Poi, io ve lo giuro che io domani, dato che la mattina devo andare in un posto, passo anche in libreria a ordinare questo libro, ma preparatevi. E, vabbè, oltre a quello, anche un altro che mi servirà per il prossimo video, che è la mia TBR di settembre, di ottobre. Perciò, comunque, il libro in questione è Better, volume 3, ossessione, che è il libro che è dal 3 ottobre. Chi mi segue da tanto tempo sa che io non ho letto né l'uno né il due, perché una mia amica mi aveva detto che sarebbe uscita a febbraio, perciò dovevo aspettare. E ora viene fuori che Better sta per uscire il 3 ottobre, momento di crisi. Voi non potete capire. Quando Stefania e Carrie lo hanno annunciato, io, cioè, sono caduta letteralmente dal divano, ma ve lo giuro, io, cioè, mi stavo per mettere ad urlare in tutta la casa, perché un giorno prima lo comunica Stefania, un giorno dopo lo comunica Carrie, e io ve lo giuro, cioè, io ero, oh mio Dio, cosa stanno dicendo? Quindi sono veramente molto, molto felice. Per chi si stesse facendo la domanda, ma perché prendi Better 3 prima di Better 1 e 2? Perché, ragazzi, io prendo Better 3, ho detto che ci sarà tipo la sorpresina, che è una letterina che è stata scritta da Thomas. Vabbè, comunque, Thomas è il protagonista del libro, quindi veramente non vedo l'ora. Perciò, devo assolutamente prendere Better 3, infatti ora posso in libreria ad ordinarlo. Poi, appena il tempo, ordino anche Better 1 e Better 2. Per chi si stesse chiedendo i costi, direi, cioè, devo dire che Better è una trilogia che vi verrebbe a costare sui 34 euro, quindi verrebbe a costare veramente pochissimo, perché il primo libro costa 9,99 euro, quindi circa 10 euro. Poi, invece, abbiamo il secondo, che costa 10 euro, e infine questo, che costa 14 euro circa. Quindi verrebbe comunque tutto a costare sui 34 euro, e penso che sia veramente una delle trilogie meno costose, o almeno di quelle che io in casa o che comunque ho letto, quindi veramente penso che sia una delle meno costose. E trovo che sia una cosa molto carina, quindi probabilmente appena il tempo ordinerò anche gli altri due, e ordinerò, cioè, questo mi dovrebbe arrivare tipo il 3 ottobre, perché domani vado ad ordinarlo. Quindi non vedo l'ora che esca Better 3. A parte che di Better 3, oggi Rocchia, che è un'amica stretta di Carey, ha pubblicato diverse, c'è nel loro chat, dove Carey sclerava a causa del libro, e non vedo l'ora di parlarvi del libro, per poi poter leggervi anche questo chat, che vi giuro, mi hanno palesemente uccisa. Andiamo avanti con un'altra uscita del 3 ottobre, che facciamo finta che sia solo un gioco. Vi devo dire che io su questo libro ho aspettative molto, molto, molto alte, ma altissime, perché diverse ragazze, no, così, a cui ho scritto, perché molte ragazze hanno detto ah, esce questo, finalmente esce questo, esce questo, esce questo, e io ero un attimino a farmi tutti, in che senso? Cioè, quindi sono andata un attimo a chiedere informazioni, molte persone hanno letto la trama, così, comunque c'è chi, tipo, l'ha già avuto anche in anticipo, dicono che sia veramente molto, molto carino, molto bello, quindi le mie aspettative si sono alzate di un sacco, non so se lo leggerò ad ottobre, oppure se lo leggerò, tipo, un po' più in là, perché sinceramente ho le aspettative alte, sì, ma non mi ispira. Cioè, né dal titolo, però esce comunque il 3 ottobre, a chi potrebbe interessare, vado pure a comprarlo, ovviamente io non sono una che giudica un libro senza prima averlo letto, oppure senza prima averlo, cioè, solo dalla copertina, così, quindi lo andrò a comprare, oppure lo prenderò in prestito da qualche mia amica, ovviamente parlo di amiche strette, e poi lo leggerò, e dopodiché giudicherò, spero solo che ne valga la pena, perché io, cioè, se devo giudicare dalla copertina, da ciò che mi hanno detto le diverse ragazze, le mie aspettative sono tipo, up, 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 se invece poi si rivela un down, 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 un giuro che mi metto a piangere, preparatevi a questo libro, perché voi non siete pronti, psicologicamente. Io ve lo giuro, che quando ho letto, che sarebbe uscito in italiano, io mi sono messa ad urnare nell'autobus, ma letteralmente, la mia amica, cioè, mi ha presa per pazza, ma io che ci potevo fare, perché io l'avevo già letto in inglese, tipo, però l'avevo letto sul telefono, e in inglese, si sa, io sono una frana, no, vai, c'è una cavo, perciò non avevo ben capito di cosa parlassi, comunque molti punti non mi erano chiari, e dal 24 ottobre, un altro libro che ho intenzione di ordinare sempre domani, dal 24 ottobre, in tutte le librerie italiane, digitali, dappertutto, sarà disponibile Ice Breaker, in edizione italiana. Ice Breaker sarebbe tipo un ghiaccio rotto, penso, cioè, il titolo è sempre in inglese, però è il libro in edizione italiana, e io ve lo giuro che non vedo l'ora. Non vedo l'ora, non vedo l'ora, cioè, ve lo giuro, sono già così contenta che non vedo l'ora. Poi andiamo avanti con i libri che mi sono sempre stati consigliati, perciò vi devo dire che non saprei cosa aspettarmi, a parte da uno degli ultimi che non vedevo l'ora uscisse. Preparatevi perché questo veramente mi fa avere delle aspettative non alte, cioè, più di facciamo finta che sia solo un gioco, queste probabilmente le sue aspettative superano la luna, ma perché dal titolo è bellissimo. E poi una mia cara minca l'ha letto in inglese e tutto, ha detto, oh mio Dio, no, te non puoi capire, devi leggerlo, è troppo bello. La mia 8 però, se in inglese, non ho intenzione di sfaticare di nuovo, come ho già fatto con diversi libri, perciò mi fa, ah ma sei tranquilla, tanto sta per uscire l'edizione italiana, momento di crisi, perciò eccomi qua ora, che l'ho aggiunto, che devo assolutamente comprarlo. Ovviamente, ragazzi, di questi libri non tutti li compro ad ottobre, perché, cioè, considerate che la maggior parte costa sui 14 euro, perciò non posso far spendere i miei così tanti soldi, perché sono veramente tanti i libri, perciò piano piano cercherò di recuperarli tutti quanti nel corso dei mesi, possibilmente magari entro dicembre. Però quelli che sicuramente questo mese prenderò sono Love Me, Love Me, volume 2, Better e Icebreaker, perché, dai, cioè, dai, poi gli altri piano piano li prenderò. Comunque, il libro del quale stavo parlando è You Make Me Ake, I Crave You, in inglese, come potete notare, perfetto. Esce in edizione italiana dal 10 ottobre, è un romanzo sempre di Wattpad, e io ve lo giuro, cioè, mi sarei messa a ballare, ma perché, nel senso, questa mia amica mi sta stressando da mesi di leggerlo, 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 e io ora sempre, no, se in inglese, no. Poi vedo che lo fanno uscire in italiano, è il momento di ballo, e quindi, cioè, che fai? Tiene privi? Cioè, ovviamente lo prenderò più là, oppure lo prenderò in presso da lei, ora vedo, però, comunque, ho intenzione di leggerlo. Questo libro, sempre, era sempre un libro in inglese, pur, è tradotto in italiano, comunque, quello che vi ho appena detto, You Make Me Ake, I Crave You, e librerie dal 10 ottobre, penso sia digitali, che Kindle, comunque lo trovate dappertutto. E, un altro libro, che è sempre un'edizione italiana, quindi prima era in inglese, che vi devo dire, che io, su questo, non ho aspettative molto, molto alte, non perché ho scritto diverse persone, quasi nessuno lo conosceva, però, io, cioè, mi è piaciuto dalla copertina, un po' dalla trama, ovviamente non vi sto spoilerando la trama di nessuno, perché non mi sembra giusto, nei confronti delle scrittrici, dato che a tutti, manca veramente un sacco di tempo, perciò io ho letto la trama in inglese, poi me la sono tradotta su Google, però comunque, è una cosa che io non me la sento di fare, dato che le scrittrici, comunque, cioè, vogliono quell'effetto suspense, no, così, quindi forse, preferrei che, prima vi si libro tra le mani, così, comunque, il libro in questione, è A Kingdom of Blood and Betwell, allora, c'è da dire, che per una che andava in inglese, tutti i titoli in inglese, madonna, vabbè, comunque, è in libreria dal 27 ottobre, quindi segnatevi anche questo dato, però ovviamente la data più importante, il 3 ottobre e il 24, vabbè, comunque, dal 27 ottobre sarà disponibile, come vi ho già detto, non ho aspettative molto alte, perché anche la trama non mi è molto piaciuta, non ho, non conosco così, c'è, non conosco nessuno che l'abbia letto in inglese, così, quindi veramente non saprei cosa aspettarmi, poi finendo con due libri, che veramente uno, cioè, diciamo che lo stavo aspettando come la nascita di mio figlio, letteralmente, quindi prima vi dico quello che, diciamo, mi è stato consigliato da una mia compagna di classe, perciò aspettative abbastanza basse, però comunque anche un po' alticce, perché questa mia compagna di classe legge libri che, sono libri molto lontani dal mio stile, ad esempio, lei legge libri un po' più filosofici, così, invece leggo un po' libri più romance, perciò diciamo che ho un po' paura, però, da quello che mi ha detto, questo tipo, un po' fantasy, un po' romance, un po' mystery, quindi, ha detto che potrebbe essere un genere che piace a me, perciò, non lo so, speriamo bene, comunque sto parlando di Il laberinto della Trinità di Meizran, e il libro di Eva alle 27 ottobre, su questo in realtà non ho trovato la trama, quindi non saprei, però lei mi assicura che tipo, che ha fatto diverse ricerche così, quindi non lo so, mi fido di lei, ovviamente non penso che lo comprerò ora, ma penso che questo sarà uno degli ultimi che comprerò, oppure me lo farò prestare direttamente da lei, però comunque ho intenzione di leggerlo, alla fine per finire in bellezza, ve lo giuro, mi sta venendo da piangere, cioè io, io adoro, per finire in bellezza, al 27 ottobre, in tutte le librerie, e io il 27 ottobre, vi voglio vedere a tutti quanti, nelle librerie, uscirà un nuovo libro, di Tareh Mafi, si dice, Tareh, sì, Tahere, 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 vabbè, di Mafi, io la chiamo semplicemente Mafi, perché è molto più semplice, così, no? Quindi, dal 27 ottobre, cioè in tutte le librerie, tutti i formati, quindi cartaceo, digitale, ebook, sarà disponibile, il nuovo libro di Mafi, che si intitola, These Infinity Tears, ovvero, gli intrighi del regno, e io, ve lo giuro, io ho amato Shatter, mi, non ho ancora letto Unravel Me, né Immagini, né nessuno, però, io, ho amato Shatter Me, quindi, vi devo dire, io ho letto solo Gnatimi, ma ho saltato Unravel Me, perché hanno detto che sia tipo, un po' noioso, perciò sono passata direttamente al terzo, però ho amato ancora il quarto, che sarebbe poi la fine, in realtà le persone dicono tipo, il quarto, il quinto, così sia più una novella, però, sono io, e devo leggerlo, leggerò anche Ravel Me, che quando avevo iniziato a leggerlo, così, a far rispetto di mandarmi in blocco e tutto, perciò, preferisco magari, aspettare, però, vi dico che questo libro è bellissimo, la copertina io lo amo, perciò non vedo l'ora che esca, di vero tra le mie mannine, ovviamente, come sempre, non l'ordinerò il 27 ottobre, perché sarebbe un po' too much, contate che, già voglio Love Me, Love Me 2, Better, Icebreaker, poi, voglio anche, ti ho trovato a De Ligne, però in inglese, dato che, la prof, perché abbiamo il Dama, è tutta, c'ha detto di iniziare a leggere in inglese, a parte quello, poi voglio un minimo due libri della Feli, poi mi sembra un po' too much, per i miei genitori, quindi, preferirei un attimo di staccare i libri, in base ai mesi, magari prenderne qualcuno anche impresso dalla biblioteca, perché ricordiamolo, non c'è niente di male nell'innovere i libri, ma prenderli impresso dalla biblioteca, l'importante è leggere, cioè, la lettura è veramente un hobby bellissimo, però, come ho già riferito in molti, ho rivadito in molti miei video, è un hobby molto costoso, soprattutto per noi minorenni, magari noi che non lavoriamo, io ad esempio inizierò a lavorare dal prossimo anno, e perciò, ancora non ho i miei soldi, quindi, far spendere tutti questi soldi, i miei genitori, per, comunque c'è, è un mio hobby, mi fa stare bene, però fargli spendere tutti questi soldi, mi sento a volte, un sacco in colpa, quindi magari preferirei dividerlo, e lo consiglio a tutti voi, perché, per quanto i nostri genitori, possono prenderci tutto quello che vogliamo, a volte siamo noi, per capire quando stiamo esagerando, e venirgli incontro, quindi questo è, comunque questi erano, gli sto contando, gli otto libri, in uscita da ottobre, fatemi sapere, se volete questo genere di video, anche per novembre, perciò, io vi ricordo, di iscrivervi al canale, se non l'avete già fatto, se vi faccio, accendete la campanellina, e lasciate un bel like, e già che ci siete, condividete il video, con la vostra amica, che ama leggere, che non sapeva nulla di queste uscite, così anche lei, dal 3 ottobre, corre in libreria, a prendere tutti i libri, io lo ripetisco anche alla fine, vi prego, il 24 ottobre, di andare a comprare Icebreak, perché io, cioè ve lo giuro, non vedo l'ora, io non vedo l'ora, di leggere in italiano, e di capirci qualcosa di più, ma io, cioè, l'ho amato, l'ho amato in inglese, quindi vi prego, andate a comprarlo, cioè il 24 ottobre, io voglio che voi, su Instagram, trattino basso, leggerlo insieme, trattino basso, mi raccomando, dovete seguirmi, mi mandiate tutti la foto, con, amo, sono andata a comprare Icebreaker, quindi, vi prego, fatelo, andate a comprarlo, perché è bellissimo, poi mandatemi la foto, perché, come sapete, io adoro parlare con voi, comunicare con voi, vabbè, questi erano i video di oggi, direi che ci possiamo vedere anche domani, se ovviamente ho tempo, per un altro video, più che altro è per lo studio, per un altro video, dove insieme, gossipiamo, parliamo, chiacchieriamo, detto questo, io vi saluto, vi mando un super bacione, e vi saluto, nella speranza, di vederci domani, in un nuovo video, ciao ragazzi, ciao ragazzi,